se lo metti troppo largo non si apri si ma il perno è un spin per cui ma che millimetro è meno magari più su millimetro è meno alle 0.5 l'incluso che usano i radiocomandisti assastava ai 500.000 per provare a lavorare no ma non va bene dai il motore dai il motore dai il motore 150.000 euro un po' un quadrale